Un pomeriggio di sole a bordo di un battello, in navigazione lungo il Po per conoscere autori ed editori piemontesi. È quanto propone la Biblioteca della Regione nell'ambito della quarta edizione del Maggio dei Libri, l'iniziativa che promuove la lettura sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Centro per il Libro e la Lettura. Al primo incontro, il 5 maggio, hanno preso parte le scrittrici Lina Brun e Chiara Caprettini, che hanno presentato i rispettivi romanzi Mir, Il re dei gabbiani e Gira il tempo al contrario. Con il supporto di una coppia di attori della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, che ne ha letto alcuni brani, l'incontro è stato introdotto dal direttore della comunicazione istituzionale dell'Assemblea regionale, Domenico Tomatis. L'iniziativa prevede una corsa giornaliera di un'ora alle 15.30, con partenza e arrivo ai Murazzi del Po in Corso Cairoli, all'altezza del Monumento a Garibaldi, giovedì 8, dal 12 al 15 e dal 19 al 21 maggio.